Attenzione ai nemici che causano danni da impatto Ok, danni da impatto, cosa vuol dire? Sono viola? Continuiamo Chi è? Chi è? Stavo dicendo continuiamo tranquillamente Chi è che rompe? Ah, un tetra, tra l'altro non si sa che sono quelli che dovevo uccidere per la missione Ma fa la stessa, lo faccio dopo Oh, là c'è un altro dinosauro Che figata! Non lo so, a me piacciono un bordello si dinosauri Ciao fra Qua c'è un plasma 50 pollici Sono fighissimi Ne voglio uno Vi prego, regalatemelo per il compleanno Ok, da che parte devo andare adesso? Ok, mi son perso, mi sa? E' una cosa strana, io non mi son mai perso Cacchia la foresta di Magna Mi sa tanto di luogo Con 4800 missioni Spirale Arborea? Abitante di Frondopon? Anche qua Cos'è quel robo? Urluga Terra Oddio, che figo Ok, che sto posto qua è fighissimo comunque Comunque dovremmo essere arrivati Ingresso del villaggio, ottimo Lidipenduta? Ok Ok Inizia un'altra serie di 4 ore di video O tipo posso andare avanti Io Dal capo Cioè almeno Per sapere un po' la zona È fighissimo comunque Cioè praticamente c'è un'area enorme Dentro un'area enorme Quanto è grande? È troppo grosso sto robo E non si può E dai E vennero saliti da inopo Morendo E vabbè Pervertite il cacchio Perché andate via Voi i vostri feticisti Antiqua Tornata Ma che cacchio Che fai Mare di Eri? Non doveva andare sopra? C'è un mare? Stiamo scalando bionis ma c'è mare. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Ma non c'è nulla. Ma c'è nulla in questo modo. Non c'è nulla. Non ci sono capi. Sì, ci vediamo. Non c'è nulla. Qua sono sicuro che ci sono tante di quelle missioni. È troppo grosso per non esserci missioni. E devo salire un bordello. Guarda quanta gente. Luoghi scoperti a manetta. Continuo a prendere punti esperienza camminando. Guarda, non sto facendo niente. Ah, se ci divertiremo. Ah, che bello. Guarda quanti livelli. Ah, c'è pure un livello sotterraneo. Guarda, 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 guarda. Dieci livelli ci sono. Casa di Riki. Chi è Riki, boh. C'è sempre una ricerca piena. È troppa roba. A me basta andare a parlare con la tipa. Così almeno sono sicuro che non faccio partire filmati quando giustamente troverò qualcosa. Perché? Vuoi che non ci siano missioni? Ne ho già viste due in basso. Sono sicuro, è pieno. Oh, è vero. È vero, puoi venire con noi. C'è una missione che mi chiede praticamente di aumentare l'affinità tra due persone femmine. Ora capisco che Charla cosa? C'è avuto una visione del tipo? No, comunque stavo dicendo che comunque ci serve un'altra ragazza perchè c'ho solo Charla. Fionna faccia l'anima sua. quindi si ci servirebbe lei o comunque qualcun altro lei forse è in pericolo perché c'è Shulk in giro non ho capito perché ce l'hanno con tutte l'esia uno boh non ci ho capito non è un fattore positivo non ho capito non ci crede nessun altro quello che vuoi è gregia cosa vuol dire? cosa vuol dire sono abbastanza tosta per combattere? ah no parlava di lui era sono abbastanza tosto perché ho letto sono abbastanza tosta non aveva senso come frase non aveva senso come frase miglior guerriero? cosa vuol dire? cosa vuol dire? ci ci da un no pon o ci da la tipa lì? da aspettare a voi da basso da basso cosa vuol dire? ma mi sono perso un pezzo di discorso a parte il fatto che è sparita Sharl perché c'è Damban adesso non c'è più Sharl va a fare lo stesso non ho capito perché ci devono dare un nuovo chi 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 vabbè possiamo passare anche dal di fuori no? no ok da dentro va bene perché Reina ha perso vita? è caduto da qualche parte sei un idiota ecco tipo questi qua con il nome la pa vedete aggiornamento in basso con i dettagli vuol dire che l'abbiamo registrato tra gli amici diciamo sembra una roba tipo il Mivers e praticamente adesso questo ci ha dato la possibilità di sbloccare delle missioni che magari ci entravano con quello non lo so è un gran casino forse non dovevo farlo però era arrivato prima ok ok sono vivo sono vivo sono caduto su una casetta che non dovrebbe esistere non c'è un piano questa casetta è permesso grandissimo ecco ecco come si scende velocemente vedete che tipo è pieno di di Nopon che dà missioni io lo sapevo durava un bordello ciao eh dimmi Riki non è aspetta la casa schiaccia schiaccia 7 ma perché sono verace finirà male lui sono sicuro muore tra un episodio probabilmente lo stanno facendo perché ma che che villaggio di merda sono stronzi è morto ok ok ci hanno dato ah ma capito dobbiamo portarlo da qualche parte no fanno cagare in realtà basta che li cogi poi li tiri giù tanto ma forse sono troppo forte io è probabile ecco lontano anche da direttive è fantastico grandissimo io si fai schifo si non lo sappiamo però me lo metti ciò che facciamo un punto in più ok ok non ci sono capito niente Poggio a piedi peloso Sì ok devo fare un sacco di roba Ah è vero cacchio no no fermi fermi tutti Voglio finire una missione Che è quella lì del Del ricordo del figlio perduto Che trova l'arma del figlio di Cherry Perché ho trovato una zona in cui c'è un oggetto Che non sono andato a vedere purtroppo Quindi raccogliamo l'oggetto qua e poi andiamo a prendere quell'altro Almeno me la scavo perché non ne posso più di vederla lì Ok abbiamo vestito Ricky Almeno quello Cosa c'è sulla schiena cos'è quel robo Non è che sta dubbando Si trova sa come trovarlo Sei un grande Si dice prode e shulk non iniziare a parlare anche te come loro perché già fai fatica Nessuno sa cosa dire Tanto muore tra un episodio Non ho capito Non ho capito perché dobbiamo uccidere un Telesia che ci ha parato il culo dal face nero Quanta gente c'è adesso cos'è un brave party non ho capito Prima però voglio andare là al tempio Daksha Che sta sulla gamba di Bionis Li sono andato Ho trovato l'oggetto non l'ho voluto prendere perché appunto era un oggetto importante Comunque sarà l'ultima cosa che facciamo perché sono a un'ora e tre di registrazione Ve l'ho già detto purtroppo quando gioco appunto Xenoblade non lo so mi prende un bordello Poi c'ha i filmati Ah vedete che non mi attaccano più neanche i nemici Ho capito che praticamente quando sei troppo alto di livello non ti attaccano neanche più Neanche per esempio quelli che appunto ti attaccano a vista E poi sono al 14 Cioè io sono al 34 ragazzi Vi rendete conto? Dovrebbe essere qui? Oh 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 cos'è? Non era qui l'oggetto? C'era un oggetto? Bayer in montanale al 32 Cosa? Che schifo l'ho trovato Che schifo Che schifo Perché non c'era l'oggetto qui una volta L'avevo visto E poi non c'è più Non c'è più Sharla Dove è Sharla? Cacchio a me serve lei che Lei cura cacchio Che schifo Che schifo Muori 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 Dai che è morto Dai che è morto Dai che è morto Ce l'abbiamo fatta Grandissimi Ah ma sta là giù Ma va che cacchio Intendevo giù nel senso di mappa Non giù Cosa? Voglio attaccare un wolf Che schifo L'ho sciuttato Impari a farmi prendere paura Quando non è il momento Non è che adesso mi rispunta quello vero? Perché potrei spegnere il gioco direttamente Ma non passo neanche dal pulsante Proprio Giro un pugno alla wheel Spacco Ma perché? Ma perché ce l'hai con me? Cosa ti ho fatto di male io? Cosa ti ho fatto? Oh vala che ricade Questo è stupido Sei buono eh Dammi quell'oggetto E non mi rompete Dovrebbe essere Dovrebbe essere l'arma Ah che bello Guarda Un rudicorno al 76 Ti trova vista Dei vamp di tempesta Ma io me ne frego e me ne vado Ciao Oh luogo segreto anche Luoghi segreti danno un sacco di punti esperienza Oddio No 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 scusa 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 E con questo direi di concludere l'episodio Ah 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 Bene ragazzi Io direi di appunto concludere quell'episodio Gli episodi Ma voi ne vedete questo Come al solito Mi andrò a fare le missioni Che ci sono da fare Mi esplorerò Ciò che c'è da esplorare Farò le cose Che non Centrano con la storia Insomma Principale Noi ci vediamo Un prossimo episodio Let's play Xenoblade Chronicles Qui da Lamef è tutto Ciao a tutti